Io sapevo che questa sera era scritta Queste figure di merda non si possono fare assolutamente Sul 2 a 0 ho detto ora prendo un taxi e vado a casa Non capisco come mai abbiamo avuto questa involuzione mentale Parte Floriano, destro spiazzato Parte Soleri, destro rete Dall'olio vuole il cross con Brunori, che lotta! Che strappa a sinistra, si muove accanto a lui per l'Adi Cancellieri con il tiro Cancellieri! Il pallone per Stosilipo! E il Palermo ha in vantaggio! Poi Valente, si gioca, Valente a giro e la palla in gol! Parte Bontà, destro, traversa! Brunori, Brunori, destro rete! Brunori, palla per Floriano, Floriano, Floriano! Brunori, Brunori, conclusione rete! Soleri, destro rete! Palermo 3, Foggia 0 La squadra di Filippi batte nettamente il Foggia Perso però Brunori, Brunori, Brunori la fitta! Brunori, il lob! Ed è il vantaggio del Palermo! Sulla primo palo, il colpo di testa! Ed è la rete! Ha segnato Lancini! Parte, dito, conclusione! Pela costituisce ma non riesce a parare! Lo stacco di piana, fella rete! Palermo in vantaggio! Silipo, 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 Silipo! Palermo 2, potenza a zero! Brunori, il tocco verso Valente! Brunori, Brunori, conclusione rete! Brunori! Quello che mi ha spinto poi è il fatto di pensare che dopo 18 anni il destino mi abbia dato questa nuova possibilità Ho sempre pensato di poter avere ancora una chance e quindi quando sono stato chiamato ho pensato proprio a questo segno del destino Valente in mezzo verso Brunori, poi Damiani, conclusione rete! Felici, palla sul destro, Felici, conclusione! E' un gol straordinario! Valente, cross dentro verso Brunori! Valente solo, Valente, conclusione rete! Valente! Maccari palla dentro, il colpo di testa per Agotti e la palla in rete! Cross, colpo di testa, il pareggio del Messina! Vole andare Maxime Girona col mancino, parte la conclusione deviata, rete! Schema verso Brunori, Brunori! Rete! Brunori! Altro cross verso il centro, passano i rossoneri! E' un arriva in colla da parte di Carotolo! Troppo di testa, la palla è lì! Lancini da due passi, poi Floriano, rete! Brunori, Brunori, destro, rete! Matteo, Brunori! Mette in mezzo verso Valente! Cross dentro verso Brunori! Soleri, Soleri, Soleri! Bicilcio! Bicilcio! Adprene! Bicilcio! Io voglio vincere, voglio andare insieme a me con il Palermo, voglio andare insieme a me con il Palermo, voglio vincere, voglio andare insieme a me, non mi interessa quello che mi accade, voglio andare insieme a me, voglio che i giocatori capiscano che al primo minuto si gioca come abbiamo fatto andato in testa. Il primo palo verso Luperi di colpa di testa e il Palermo è in vantaggio, poi Brunori, Soleri, 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 Rete! Sarà sotterra verso Brunori e il Palermo è in vantaggio, ancora lui, sempre lui, solo 22 in campionato per Matteo Brunori. Il palo favorisce Soleri, prova, un gol, pazzesco, pazzesco, pazzesco! Abbiamo visto questa bellissima festa che giustamente il Bari ha meritato perché ha vinto, ha stravinto perché con tre, quattro domeniche di anticipo hanno vinto il campionato. Quindi, abbiamo detto tutti, la prossima deve essere la nostra, anche perché se tu non pensi così, non vuol dire essere presuntuoso, vuol dire avere un sogno, avere un obiettivo. Credo che anche oggi i ragazzi hanno meritato questo terzo posto di saltare appunto le prime due fasi, andare direttamente alla fase nazionale perché quella era la posizione che la nostra squadra meritava. Io penso che la serie B di conquistarla con il Palermo perché credo ciecamente che il destino ha combinato una serie di cose. Sono tutte quelle situazioni che ti fanno capire che il destino c'è, che non è vero, che non esiste, che è casualità. Parlare uno dice che è scaramantico, non lo dico, no io non sono scaramantico, non sono scaramantico perché quando parlo di fede non c'è scaramanzia. Comunque andrà, io so che quello che stiamo facendo è qualcosa di importante, però ne sono fermamente convinto che arriveremo alla fine. Grazie a tutti. Crossa in mezzo, prova De Luca, calcio di rigore, calcio di rigore per la Triestina, parte pro calcio, destro Massolo para, ha parato il calcio di rigore Massolo. Soleri ruba il pallone, Soleri si punta dentro Brunori, Soleri punta la pisarda, Soleri, Soleri fa tutto da solo, quindi Luperini! 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 Valermo uno, Triestina uno, Luperini! Quando tu fai le cose con il cuore, quando tu fai le cose con il cuore, quando tu fai le cose con il cuore, poi alla fine sarà sempre premiana. Questi ragazzi lo stanno facendo. Palla dentro verso Mercai, Mercai esce Massolo, calcio di rigore. Marte, Mercai, Massolo è la parata e poi il gol! La Virtus Etella in battagio, in mezzo, la conclusione, la parata di Lancini e poi la palla in rete. La Virtus Etella ha segnato. Sinceramente sul 2 a 0 ero convinto che ce l'avremmo fatta a superare il turno perché mi sembrava una punizione troppo severa. Palla dentro verso Fella, anticipato, Soleri, Soleri, conclusione, Rente! Rente! Soleri! Palermo uno, Virtus Etella due, Soleri! Soleri, minore di rigore, Soleri, palla sul destro, deviato, chiosa, quindi Fella! Peppe Fella! Palermo due, Virtus Etella due, Fella! Non c'è più tempo, il Palermo accede alle semifinali e incontrerà la Feralpi Salò. Attenzione a Brunori, 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 Brunori! Destro, Rente! Palermo uno, Feralpi Salò zero, Brunori! La squadra di Silvio Baldini va in finale! Cosa mi interessa? Cosa possa succedere? Cosa mi potrà mai succedere? Quando io so che non ho nessun rimpianto? Questo a me mi interessa. E voglio che i giocatori del Palermo facciano la stessa cosa. Vadano in campo convinti che noi siamo i più bravi, convinti che noi vinceremo, convinti che nessuna difficoltà ci può fermare. Cosa mi interessa? Cosa. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' l'ultima notte dell'anno, Palermo contro Padova, in Serie B c'è spazio solo per una, in diretta dello stadio Renzo Barbera, la finale dei play-off di Serie C. Parte il cross verso Luperini, ballo di valo, calcio di rigore. Brunori! Palermo 1, Padova 0 al venticinquesimo! Balla che gira, colpo di testa Donnarumma! Ma che ha preso Donnarumma? Dopo tre anni, il Palermo torna in Serie B! Padova all'andata e al ritorno e torna in Serie B! Abbiamo subito tutto in questi anni, ci hanno massacrato, massacrato, la gente che ci ha veramente calpestato, perché per noi il Palermo è una cosa importante, una cosa che ho sempre sognato, cioè fare il tornare tutti quelli che ci hanno rubato, che ci hanno tolto. A me, sinceramente, la vittoria da sconfitta non me ne frega un cazzo, a me mi interessa il percorso, a me non me ne frega di questo mondo, non sono uno stipulatore, voglio sognare! Voglio essere libero! Come! Renzo Barbera Per il Palermo e con il Palermo ha fatto quello che vorrei fare io Dare tutto se stesso